Un augurio speciale di buon anno a tutti voi lettori di rivierasport.it Ciao a tutti i lettori di rivierasport.it, sono Marco Di Laure e volevo augurarvi felice anno nuovo Tanti auguri di buon anno ai nostri lettori di rivierasport Tanti auguri a tutti i lettori di rivierasport, un abbraccio grande e felice anno nuovo anche dal mio amico Lucky Ciao a tutti, sempre positivi Auguri di buon anno a voi di rivierasport e a tutti i suoi lettori, felice anno nuovo a tutti Un sincero augurio di un buon 2019, felice 2019 a tutti i lettori di rivierasport e Savona Sport Ricco di soddisfazioni per tutti quanti e tutte le società sportive che seguono il calcio dilettantistico Dai eh! Tanti auguri di buona fine, miglior inizio ai lettori di rivierasport, un abbraccio Federico Piazza Ciao amici di rivierasport, vi auguro un buon anno, una buona fine, un buon inizio e sempre forza San Stevese Ciao a tutti Ciao sono Stefano Rambagli, tra canzio della San Stevese Volevo augurare un buon anno a tutti i lettori di rivierasport.it Auguri Un saluto speciale agli amici di rivierasport, auguri di buon anno da Mattia Farsoni Ciao Volevo fare un augurio di buon anno, un felice anno nuovo ai tutti i lettori di riviera 24 dalla famiglia Orlando e forza Camporosso Riviera Sport, buon anno, ricordando a tutte le squadre di calcio che ci sono momenti belli e momenti meno belli durante il campionato di calcio In tutti i casi voglio fare gli auguri a tutti di un ottimo 2019 da Rangoni Luca Buon anno Un buon anno a tutti i lettori di rivierasport, un abbraccio, tutto buono nel 2019 Ciao a tutti amici di rivierasport, volevo augurare a voi e alle vostre famiglie un felice anno nuovo Continuate a seguire la pagina, numerosi, ancora tanti auguri Tanti auguri di buon anno a tutti i lettori di rivierasport da tutta l'imperia femminile calcio 5 Buongiorno Riccardo, un augurio di buon fine, buon inizio a te e a tutti i tuoi ascoltatori di rivierasport A presto e ci vedremo nei prossimi giorni, un abbraccio, grazie Tanti auguri a rivierasport da chi ama la mountain bike Un saluto a rivierasport Auguri, buon anno Buon anno Siamo arrivati alla fine di quest'anno Voglio fare un augurio a tutti i lettori di rivierasport Per il 2019 Che sia un anno proficuo e ricco di soddisfazioni per voi e i vostri cari Colgo l'occasione per augurare allo staff della San Remese Calcio Ai giocatori e ai loro cari Un 2019 ricco di soddisfazioni calcistiche e non Buon anno a tutti Ciao Ciao a tutti, sono Andrea Laspisa e volevo augurare un felice 2019 a tutti i lettori di rivierasport A presto Un speciale a tutti i lettori di rivierasport Un abbraccio grande Grazie a tutti i lettori di rivierasport Grazie a tutti i lettori di rivierasport